Stavo parlando al telefono pochi minuti fa con gli amici ingegneri dell'IT, delle isole britanniche e parlando con loro mi hanno fatto pensare, mi ha fatto pensare perché parlando è venuto fuori una cosa che un po' mi fa vergognare, ovvero uno dei più grandi, se non il più grande difetto di noi italiani. A questo punto vi chiedo a voi cosa ne pensiate, sapete qual è, e vi pongo una domanda, sapete qual è il più grande difetto, uno dei più grandi difetti di noi italiani? Attendo che siate collegati, qualche istante ne parleremo insieme, perché è un difetto che ci crea tanti danni, crea tanti danni alla nostra potenzialmente bellissima Italia. E voglio vedere se qualcuno di voi ci arriverà prima che vi dica il difetto qual è. Ciao Rosanna, ciao Rosanna, ciao Pina. Attenzione, è un difetto che è sopra le parti, non è un difetto di centro-sinistra, neanche di centro-destra, neanche 5 stelle, neanche di estrema-sinistra, neanche di estrema-destra, è un difetto che ci porta tutti dentro un unico pentolone, un pentolone che è mischiato, 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 cambiano i governi, ma rimane sempre lo stesso, ha lo stesso sapore, amaro. Ciao, finalmente la notifica. Il più grande difetto di noi italiani. Attendo qualche istante, mi dicono l'indifferenza, no, purtroppo non è l'indifferenza, non è l'indifferenza, no, grazie comunque Caterina che hai provato a esprimere, di credere che nelle istituzioni, di credere nelle istituzioni, dice Giusy. Non è quello, non è quello. In verità no, perché no, è un difetto nostro dei cittadini, attenzione, dei cittadini, dei partiti, dei cittadini, dei politici, di tutti. Ciao D'Alessandria, dice Gina, ciao. Attendo qualche istante, vi vorrei vedere collegati intanto, non riesco a vedere col software, più troppo, quanta gente ci sia effettivamente collegata, dato l'orario. Algoritmo puoi sbloccare diretta, lasciarla libera perché non dirò nulla di strano, anzi dirò una cosa a mio parere che dovrebbe essere, oltre ad essere sacrossanta, dovrebbe essere condivisa veramente da tutti, perché è un pensiero che mi hanno fatto riflettere questi miei cari amici, cari amici, ingegneri dell'IT, che quotidianamente mi aiutano, mi aiutano, mi spiegano le cose, come funziona un po' tutto intorno a noi. Allora, il più grosso difetto di noi italiani è che, a prescindere dalle idee politiche, a prescindere dal governo che c'è in questo momento, che c'era prima, non lasciamo mai lavorare chi ha il governo. L'abbiamo fatto col centrosinistra, dove le destre, dove i centristi hanno fatto di tutto per smontare il governo e il lavoro di centrosinistra. Non l'abbiamo fatto a suo tempo con Berlusconi, dove è stato smontato, decapitato politicamente. Lo stanno facendo con Giorgio Meloni oggi, l'hanno fatto con Giuseppe Conte, con i 5 Stelle. Insomma, qualsiasi governo ci sia, l'altra parte fa di tutto per non fare lavorare il governo in essere. Questo è un grande difetto, amici, questo è un grande difetto perché in un paese intelligente, non dico democratico, dico intelligente, la democrazia dovrebbe esserci teoricamente, ma però in un paese intelligente, fatto da gente intelligente, dovresti lavorare per l'interesse del paese. Quindi chiunque ci sia al governo, devi dargli il tempo necessario per portare avanti il suo programma. Se ha vinto le elezioni regolarmente, attenzione, se ha vinto le elezioni regolarmente, un partito, un gruppo di partiti, una coalizione dovrebbe avere il diritto sacrosanto di lavorare fino a fine legislatura, fino all'ultimo giorno. Dopodiché, dopo di che, a fine legislatura, legislatura Meloni, legislatura Conte, legislatura Ghislaine, qualsiasi sia, non cambia, legislatura in essere, a fine legislatura il governo va davanti al popolo e si fa con le urne e se ha fatto le cose fatte bene, promosso, se ha fatto le cose fatte male, bocciato, esiliato. Bene, questo non lo lasciano fare mai e sapete chi ci rimette in tutto questo? Ed è anche colpa nostra che lo permettiamo. Ci rimette il popolo, ci rimette l'Italia, ci rimette la nostra credibilità. Bene, parlando con questi ingegneri che sono persone che vivono alcuni americani, alcuni inglesi, alcuni italo-italiani che si sono trasferiti da anni, parlando con loro mi dicono, ragazzi, si Robi, siete voi i primi poco furbi, voi cittadini, la vostra stampa, i vostri media, il vostro mainstream, da una parte dall'altra. Si fanno delle battaglie incredibili per smontare i governi in essere, i governi in essere. Che siano governi di sinistra o di destra o di centro non cambia, lo fate sempre, lo fate sempre. Dalla seconda repubblica in poi lo fate sempre. Paradossalmente nella prima repubblica c'era molto meno questa cosa. Sì, erano più, erano più, però arrivavano a fine legislatura molti di quelli, molti. E purtroppo, purtroppo, invece bisognerebbe far lavorare. Nel bene o nel male, amici, se uno vince le elezioni, che le vinca con un voto o che le vinca con il 90% dei voti non cambia, perché la legge elettorale è molto chiara. Se uno vince, vince, fine. Dal momento che una persona vince, che sia di sinistra, di destra, di centro, 5 stelle, deve avere la possibilità di lavorare fino all'ultimo giorno della legislatura, fino al termine naturale della legislatura. Non abbiamo avuto un governo che ha potuto, fino in fondo, poter dimostrare che aveva qualcosa di buono da dare, perché utilizzano la scusante, non sono riuscito a completare il mio programma, il governo è saltato prima. Dovete capire che facendo in questo modo ci troviamo dei partiti e dei governanti che hanno sempre l'alibi, un alibi giusto tra parentesi, perché non avendo finito il programma, perché il governo salta prima della scadenza naturale, uno dice ragazzi, io avevo un progetto a 5 anni, a 3 anni mi avete interrotto, a 2 anni mi avete interrotto, non potevo completare il mio progetto a medio termine. Quindi colpa nostra, colpa nostra che permettiamo ai media, al mainstream, di parte, perché vi ricorderai che sono tutti di parte, chi più o meno a sinistra, chi più o meno a destra, chi più o meno al centro, ma sono tutti di parte. Purtroppo a causa anche nostra che permettiamo tutto questo, cercando di far saltare i governi. Ragazzi non bisogna cercare di far saltare i governi, bisogna cercare di collaborare e convincere i governi che se fanno una cosa fatta male, una proposta fatta male, fargli cambiare idea in modo intelligente. c'è molta differenza da far saltare un governo o a convincere un governo che su questo argomento Giorgia stai sbagliando, su questo argomento Ellis Lane stai sbagliando. Qua invece c'è già chi parla di far saltare il governo della Meloni, c'è chi diceva facciamo saltare il governo di Prodi, chi diceva facciamo saltare il governo di Berlusconi, chi il governo di Conte, hanno sempre fatto così. È veramente una cosa triste. E a rimetterci, vorrei ricordarlo, quando salta un governo, alla fine, volenti o non enti, a rimetterci. Siamo noi, gli italiani e nessun altro. E nessun altro. Era una piccola riflessione. Come fanno i tedeschi e i francesi, dicono. Esatto, esatto. Vabbè, quindi questo vuol dire Robby sta leccando il culo a Giorgia Meloni perché deve. No, sto dicendo una sacrosanta verità e realtà. E realtà. La classe politica è quella che abbiamo, lo sappiamo. Da sinistra a destra si contano sulle dita di una mano tra i 500, forse quelli che si salvano e sui quali, potrei dire, mi sembra una persona sincera e onesta. Per me sono pochi. Ciò non toglie. Gli abbiamo eletti noi. Gli abbiamo eletti noi perché chi non va a votare non ha neanche il diritto di parlare. Perché se non vai a votare tu vuol dire che ti sei sostenuto, che non vuoi saperne nulla. Ma chi va a votare sono quelli che hanno scelto. Accettare la schifezza di insetti nelle nostre tavole. Infatti gli agricoltori, amici, gli agricoltori dal 22 di gennaio saranno in strada. Io sarò lì con loro, io sarò con loro. Mi occuperò, darò una mano a questi ragazzi che fanno tutto nella vita tranne che i comunicatori, darò una mano nella comunicazione. Non sarà una manifestazione cattiva ma sarà una manifestazione seria. C'è molta differenza nel rispetto delle leggi ma molto decisa. Per portare dei punti al governo Meloni che la Meloni dovrà assolutamente valutare perché è fondamentale ascoltare la gente. Vorrei ricordare che intorno agli agricoltori ci sono i trasportatori, ci sono le aziende, ci sono le famiglie, ci sono i consumatori, tantissimi consumatori. Si parla di milioni di persone. Gli agricoltori hanno delle proposte molto serie per far sì che il cibo torni a un prezzo umano. Torni ad un prezzo umano e soprattutto torni un cibo sano, non della merda che viene chissà da dove con detto delle cose strane. Ho saputo di Giovanna quella del ristorante. Non conosco bene il tema, ho sentito di cosa è successo, l'hanno portata al suicidio. Perché attenzione, scagliarsi contro le persone, non tutti hanno un fegato come il mio o come quello di tanti come me che fanno comunicazione. C'è gente che non è abituata, quindi se in 50 persone offendete una persona sui social network, una signora come questa ristoratrice Giovanna, amici, può finire male che una non ce la faccia. È molto triste la cosa. Però tornando all'argomento, amici, il modo di fare il più grosso difetto che abbiamo è che non lasciamo mai lavorare gli altri, non lasciamo parlare gli altri, non lasciamo, siamo inconcludenti, ecco, siamo inconcludenti. Perché chiunque va al governo, chiunque ha una proposta, non gli lasciamo portare a termine un progetto. Infatti abbiamo l'Italia è ricca ed è piena di progetti incompiuti. L'Italia è piena di opere sospese. Ci mettiamo degli anni a fare una cosa. C'è un motivo. Perché siamo distruttivi, mai propositivi. Bene, questo è uno dei più grandi inconcludenti anche. Questi sono tra i più grandi difetti che abbiamo. Buon pomeriggio. Era una rinfezione e vado a finire il mio caffè. Vi voglio bene. Buon pomeriggio a tutti. A più tardi.